Sembra un film. Nell'affacciarmi alla veranda ho visto verso mezzanotte e un quarto circa che la macchina stava bruciando. Inconsciamente, non pensando che fosse la nostra, ho gridato al mio ragazzo di portarmi le chiavi e di spostare la macchina, fino a quando non ho capito che era proprio la nostra. Era da poco passata la mezzanotte del 20 settembre scorso quando Cosimo e Massimo, fidanzati da circa due anni, hanno visto dal balcone del proprio appartamento nella periferia di Manfredonia la loro automobile completamente avvolta dalle fiamme. Sembra un film, ha affermato Massimo, mentre i vigili del fuoco sedavano l'incendio. Mossi da paura, sconforto e indignazione, i due giovani hanno sporto denuncia contro i gnoti. Non possiamo accertare che sia un attacco omofobo, però più volte, essendo che nell'arco di due anni abbiamo ricevuto veramente tante minacce, anche la macchina precedente, tanti danni, ovviamente poi l'abbiamo fatta a rottamare, Abbiamo ricondotto tutto a questo, tant'è vero che la procura di Manfredonia e i carabinieri di Manfredonia comunque stanno indagando anche su questa situazione e stanno dando comunque modo di capire chi possa essere stato a fare tale reato. Quali episodi, quali altri episodi appunto vi hanno turbato nel passato? Avendo comunque un'altra macchina, una sera abbiamo trovato sul parabrezza una foto stampata, una foto presa dai social, a colori, con i visi praticamente cancellati da due X, con le frasi due gay, gay, scritto in un modo molto corretto diciamo, due finocchi di merda. Da lì abbiamo fatto comunque una denuncia contro i gnoti, poi successivamente comunque ritirata, in quanto abbiamo ricevuto delle scuse da un gruppo di ragazzini di 15 anni circa. Che appello vi sentite di rivolgere agli autori appunto di questo atto vandalico e in generale alla comunità? Ce la faremo, non ci avete distrutto.